Grazie a tutti, volevo dire solo spendere due parole, le cose succedono perché ci sono persone che credono, no? Quindi un grazie a questa persona alla mia destra, Claudio perché ci crede ed è il motivo per cui noi siamo qui adesso, tutti insieme riuniti ed è bellissimo. Grazie Claudio, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.